La sottrazione dei minori è un caso, è un'ipotesi che si può verificare in diritto di famiglia veramente dei più terribili e che mi sta capitando di affrontare nuovamente in questo periodo. Il caso riguarda, in questo caso perfino aveva stata doppia sottrazione dei minori perché la famiglia viveva all'estero e improvvisamente la moglie prende e viene in Italia a vivere con le figlie senza l'insaputa del marito, senza il consenso del marito, che si vede sottratto da un giorno all'altro l'amore delle figlie. Inizia poi tutto un periodo, è un percorso ma breve perché si parla di due o tre mesi, di alienazione parentale dove le bimbe non vedono il padre ma in questo caso sono piccole e non riescono a comprendere che non lo vedono perché la mamma le ha portate via da loro, da lui, ma perché è il padre ovviamente la causa di tutto, così li viene detto dalla madre, tanto che appunto inizia da avere un rapporto effettivamente molto stretto fra padre e figlio e questo rapporto si inizia man mano a sgretolare e allentare grazie all'influenza negativa della madre. Il padre che ovviamente lavoravano all'estero e stavano all'estero, quindi il padre si organizza e invia un calendario a queste bimbe, meglio alla moglie, per il diritto di visita delle bimbe e quindi fa un sacrificio oltre economico ma anche di tempo e di organizzazione lavorativa per venire in Italia regolarmente e vedere con sé le figlie. Dopo due mesi tra l'altro di era stata l'iscrizione alla scuola in Italia che il padre, seppur non aveva consentito ovviamente a questo trasferimento illecito, a questa sottrazione, in realtà aveva pagato per il bene delle figlie, beh dopo due mesi la madre riprende e arriva nuovamente in un altro paese, all'estero, cioè al paese dove ella era nata e le sottrae nuovamente dal padre. Stavolta veramente il padre è impossibilitato completamente a vederle, non sa neanche dove sono. La madre rompe tutti i contatti, anche il contatto che lui poteva avere via web tramite iPad eccetera viene interrotto, vengono cambiati gli account, viene cambiato il numero di telefono e il padre si trova in questo caso appunto senza un minimo contatto con le figlie senza poterle più vedere. In questo caso a parte il reato penale di sottrazione di minorenni che però si sviluppa su un procedimento penale ma non ci fa ottenere il ricongiungimento, quello che si può fare è a dire l'autorità centrale presso appunto il ministero che l'autorità centrale che si deve coadiuvare con lo Stato dove le bimbe sono state portate illicitamente, Stato che poi deciderà sul rientro delle bimbe e si dovrà coordinare al fine di individuarle e poi procedere ovviamente alla procedura di rimpatrio sempre previa decisione del tribunale del luogo dove le bimbe sono state portate e dove sono domiciliate attualmente perché la residenza l'hanno sempre in Italia. Vedremo ora gli sviluppi, vedremo se riusciremo a ritornare le bimbe qui in Italia, abbiamo attivato tutto, ho attivato appunto l'autorità centrale, ho attivato il tribunale dei minorenni, il problema è che qui il tempo veramente fa la differenza perché le bimbe si stanno sempre più allontanando dal padre perché messe su dalla madre costantemente giornalmente, la madre inventa e avrà inventato che sicuramente che lei è scappata dal padre perché magari la classica falsa denuncia aveva subito delle violenze o gli avrà raccontato chissà cosa, ma di fatto appunto le bimbe sono state sottratte e sono state tolte non solo dal padre, dall'affetto del padre da un giorno all'altro, ma anche dalle proprie amicizie, dalla propria scuola che frequentavano all'estero e questo non è certamente una situazione o meglio un modo corretto di operare da parte di un genitore, anzi secondo me la madre qui non ha la capacità genitoriale perché ha guardato al proprio interesse e non a quello delle bimbe, sottraendole da un giorno all'altro da due luoghi, prima dall'estero dove vivevano in Italia e poi la riportate in altro paese e quindi le ha sballottate nel giro di tre mesi da un posto all'altro e facendole cambiare scuola, tra l'altro la scuola in Italia sono state iscritte senza appunto il consenso della firma del padre e su questo poi ci sarebbe tutto un altro argomento da vedere perché effettivamente ci vuole il consenso di entrambi i genitori, tanto che ad oggi nel nuovo stato dove sono la madre ha difficoltà a iscrivere perché il padre non viene contattato, non ha contatti e mai comunque dovrebbe e darebbe il consenso giustamente, visto che si sta commettendo un reato e certamente lui non vuole favorirlo questo reato, anzi lui vuole le figlie con sé e questa però è una grave situazione, forse una delle più brutte che si può verificare in diritto di famiglia e non così infrequente perché spesso vi sono oggi matrimoni fra stranieri o fra cittadino italiano e straniero dove quando poi si rompe il rapporto uno dei due prende e va magari nel paese di origine e magari trascina con sé le figlie commettendo questo reato, il problema è l'autorità centrale e gli organi predisposti, le autorità predisposte a tamponare questa situazione di urgenza procedono effettivamente con urgenza, prendiamo i provvedimenti immediati, provvisori, indifferibili subito perché qui bisogna tamponare la situazione via un'urgenza, l'urgenza qui vi è e è concreta ma è anche un'urgenza che gli organi e l'autorità giudiziale devono attuare, per esempio l'autorità centrale ha mandato dei moduli da compilare dove si richiede una serie di certificati, dove si richiede anche la traduzione di questi certificati, cioè il certificato di residenza, stato di famiglia, nascita eccetera, chiede le foto delle bimbe e la foto anche della madre che ha sottratto, queste forse le uniche per individuarle veramente necessarie ma che potevano essere inviate tranquillamente via mail senza la necessità di avere tutta la documentazione che richiede tempo e che fa perdere tempo, cioè è una documentazione che può essere chiesta successivamente perché qui vi è la necessità dell'urgenza, vi è urgente bisogno di procedere, purtroppo però noi ci si arena sempre, in Italia poi siamo dei maestri su questo, sulla burocrazia, anche ledendo appunto in questi casi il diritto non solo del padre ma soprattutto anche delle figlie che stanno subendo una manipolazione da parte di un genitore che non è capace di fare il genitore, che non guarda gli interessi delle bimbe, che non ha un dialogo con l'altro genitore per la crescita delle figlie ma anzi gliele sottrae con l'unico scopo poi magari che quello è di richiedere i soldi e di far diventare il suo ex marito, ancora marito ma diventerà il suo ex marito o semplicemente un bancomat da cui attingere ma senza concedere, senza neanche ipotizzare alcun diritto che questi possa avere ma non nei confronti di lei, dell'ex moglie, ma nei confronti delle figlie che hanno bisogno di una figura, di un padre che fino a ieri le ha sempre sostenute e che oggi è impossibilitata a sostenerle proprio perché le sono state strappate via da un giorno all'altro. Spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto che ti abbia portato a una riflessione di quali conseguenze, di quali situazioni gravi ci si possa trovare da un giorno all'altro quando si parla di diritto di famiglia. Un giorno si è tranquilli nella propria casa, con i propri figli, con la propria famiglia, si torna dal lavoro e il giorno dopo ci si trova in una realtà che sembra veramente un film paradossale, dove ci viene sottratto tutto, dove le figlie non le vedo più, dove anzi poi queste subiscono questa alienazione e questo distacco. Quindi se sei poi interessato a ogni curiosità ad avere aggiornamenti in materia di famiglia, ti invito a iscriverti al mio canale e a mettere un mi piace a questo video. Ciao, a presto!